Allo scorso Consiglio Nazionale abbiamo appunto approvato il bilancio, il cosiddetto consuntivo del 2021 e abbiamo con piacere visto che il rafforzamento patrimoniale della gestione c'è stato. È un dato molto importante perché la riserva legale che è obbligatoria per legge per tutti gli enti di previdenza dei professionisti risulta di 19,15 volte la spesa pensionistica complessiva. Noi abbiamo il carico fisso delle pensioni che ammontano a centocinquantacinque milioni l'anno più spendiamo per l'assistenza quattro milioni più spendiamo per la cosiddetta in dignità di maternità 360 mila euro. La previdenza è una cosa, l'assistenza è un'altra perché? Perché il bilancio dell'assistenza deve essere separato. Questo è il punto. Quindi con, ripeto, con questo risultato abbiamo rafforzato la riserva. e vorrei riepilogare quelli che sono stati i dati più significativi che hanno contraddistinto l'attività dell'ente che, come lei sa, è un ente vigilato da sei organismi pubblici che sono il Ministro del Lavoro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si intende, la Corte dei Conti, l'ANAC, la COVIP che vigila sui fondi pensioni e la Commissione Parlamentare di Controllo sull'Attività degli Enti. Noi, fra una settimana, avremo, verremo uditi anche da questa Commissione per l'attività di routine ordinaria. ecco, va sottolineato questo, che la solidità del patrimonio è un requisito imprescindibile proprio per assicurare la continuità delle pensioni nel medio-lungo periodo. in un momento particolare che vede tutta la nostra categoria in profonda evoluzione per l'affermazione di recente delle società di capitali, no? Le società di capitali nella gestione delle farmacie private è un dato che noi prima non avevamo. ci sono cinquecento cinquantuno società. Perché lo sappiamo? Perché c'è un contributo dello zero cinque per cento che obbliga queste società al versamento all'Empaf di questo contributo. abbiamo di recente approvato un regolamento per l'assistenza che oltre alle prestazioni continuative assicurate più gli interventi una tantum per le calamità ci sono gli interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate, gli interventi straordinari a favore dei titolari o soci degli esercizi autorizzati alla vendita dei farmaci da banco, le borse di studio in favore dei figli dei nostri iscritti e infine le prestazioni in favore degli assicurati che hanno figli in condizioni di grave minorazione fisica o psichica. in più abbiamo varato interventi a favore dell'occupazione e a chiudere interventi a favore degli iscritti per le scuole di specializzazione delle nostre facoltà. ma la cosa più importante che ha contraddistinto l'attività dell'ente in questo periodo è il welfare allargato. Che cosa è il welfare allargato? Allora, comprende l'assistenza sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e grandi eventi morbosi, le prestazioni extra ospedaliere di alta diagnostica, la copertura per invalidità permanente da infortunio e la long term care, la cosiddetta LTC e la temporanea caso morte. Queste forme sono assicurati a tutti gli iscritti a totale carico dell'ente, a tutti gli iscritti a prescindere dal contributo che avversano, attraverso EMAPI. L'EMAPI è l'ente appunto che garantisce questa assistenza sanitaria integrativa che abbraccia quasi tutte le casse professionali. Abbiamo a sostegno degli iscritti e pensionati colpiti dal Covid stanziato ed erogato 3 milioni e 700 mila euro per i nostri iscritti. Abbiamo erogato il cosiddetto reddito di ultima istanza a 3 mila iscritti per il periodo di emergenza epidemiologica, questo per conto dello Stato, siamo stati anche rimborsati, per una spesa di 6 milioni e 700 mila euro. Ora, da ultimo, ci siamo sforzati per migliorare al meglio la gestione digitalizzando per semplificare appunto il rapporto assicurativo. è stato digitalizzato per gli iscritti e per i pensionati attraverso l'accesso online, attraverso lo speed, l'iscritto può avere tutti i documenti a disposizione. Ora, questo è il quadro. Qualunque ente deve pensare alle iniziative future, certamente, se vogliamo coniugare la sostenibilità della gestione nel medio e lungo periodo con l'adeguatezza delle prestazioni, dobbiamo comunque rispettare il saldo previdenziale. Che cosa è il saldo previdenziale? È la differenza tra entrate contributive e uscite per pensione. Noi, va detto questo per precisione, fino a oggi non abbiamo mai avuto, abbiamo sempre sostenuto, di pagare, tra virgolette, il meno possibile, contribuzione il meno oneroso possibile. È chiaro che se vogliamo implementare i nostri trattamenti, dobbiamo rivedere anche la contribuzione soggettiva, perché siamo la cassa che paga meno di tutti. Qui, d'altra parte, è intuitivo che se il sottoscritto paga per il proprio dipendente da 10, 13, 14 mila euro all'anno, è impensabile che per me ce la faccia solo con 4.500 euro. Quindi è ovvio che bisogna attivare quello che il regolamento prescrive, la previdenza doppia e tripla, in maniera tale che ci sarà un incremento per la contribuzione doppia del 10% e per la tripla del 15%. Ognuno, se vuole, può crearsi un trattamento personalizzato con costi totalmente, interamente deducibili. Questo è il punto. Quindi, all'altro punto che dobbiamo sottolineare, qual è il tema della scindibilità, la critica che ci viene mossa tra iscrizione ordine e iscrizione cassa. Allora, questo deriva, questo meccanismo, da una precisa disposizione di legge. Il Consiglio dell'amministrazione, va detto, anche se i social dicono cose in libertà e non ce lo riconoscono, il Consiglio dell'amministrazione ha fatto la sua parte, quando ha praticamente istituito la contribuzione di solidarietà per gli iscritti già muniti dal 2004 in poi di altra forma obbligatoria. Se ci sono questi requisiti, il soggetto può ridurre 3% e se è disoccupato l'1% addirittura. Noi abbiamo una platea che a oggi, al 10 giugno scorso, è 101.000 iscritti. Un terzo hanno ridotto, anzi 33.000 hanno ridotto il contributo attraverso la visione di solidarietà, un terzo sono quelli che pagano il contributo intero titolari o soci di farmacia o di parafarmacia, nel nostro caso, e un terzo sono quelli dipendenti che hanno varie riduzioni a partire dal 85% e non è più pertinenza dell'ente, perché il Parlamento deve mettere mano a una legge che scinda l'iscrizione all'albo ordine da quella dell'Empaf. Va detto anche per precisione che non siamo solo noi, anche altri ordini sanitari hanno lo stesso tema dell'isciduità, praticamente i medici. L'Empam ha tanti dipendenti, tanti, che hanno altra previdenza obbligatoria, però anche questi, quindi se il Parlamento mette mano, noi siamo rispettosi e osseguosi di quello che il Parlamento decide. Però una legge si cambia facendone fare un'altra, non dicendo cose in libertà che non approdano a nulla e che comunque sviano l'attenzione. Perché? Perché quando ci si dice che siamo noi responsabili delle cancellazioni dall'albo, si dice una fesseria, perché in questo momento, grazie al calo demografico, o purtroppo dal calo demografico alle poche iscrizioni alla facoltà, noi abbiamo praticamente, non abbiamo disoccupazione. E' un momento fortunato, perché le farmacie, a seguito del concorso straordinario, mille aperture hanno portato, poi forse pure l'avvento delle società di capitali, il pensionamento, quello che non si vuole capire, il pensionamento nel sistema generale obbligatorio, gestito dall'Inps, parecchi colleghi beneficiando della cosiddetta quota 100 per ottenere la pensione, si sono cancellati. Quindi la situazione calo demografico, farmacia aperta, è chiaro che in questo momento noi abbiamo problemi, perché, ecco, io nella qualità di presidente dell'ordine più grande che c'è in Italia, devo dire che abbiamo 250-300 richieste di farmacie ogni giorno che chiedono, non possiamo soddisfare queste richieste, queste aspettative. Grazie a tutti.